Il commissario non segnala problemi, dovrebbe essere una gara tranquilla. 5, 4, 3, 2, 1, 10! 110, subossi, 60, destra 5, sinistra 5, dopo l'incrocio, 60. 10, sinistra 5, non tagliare, e destra 4, lunga, su dorsi, non tagliare, e sinistra 3, non tagliare, destra 3, paolo interno, e sinistra 4, lunga, su dorsi, e destra 5, non tagliare, 100. Sinistra 4, sul crinale, e destra 6, e sinistra 5, 100. Destra 4, lunga, stringe, stai all'interno, non tagliare, e sinistra 6, 150. Sinistra 4, lunga, stai all'interno, non tagliare, 100. Sinistra 6, non tagliare, e sinistra 4, lunga, 200. 200, su dorsi, 60. Crinale, 60, destra stretta, 60, paolo esterno, tieni la sinistra sul crinale, sinistra 5, 150, 200, su dorsi, 200. Sinistra 4, lunga, stai all'interno, non tagliare, 150. Destra 4, lunga, stringe, stai all'interno, non tagliare, e sinistra 6, sinistra 5, e destra 4, lunga, uno dorsi, e sinistra 3, destra 3, non tagliare, e sinistra 4, lunga, uno dorsi, e destra 5, 60, e destra 6, e sinistra 3, 100. Sinistra 6, 60, destra 4, stringe sul crinale, e sinistra 5, 60, destra 5, tieni la destra sul crinale, 60, sinistra, stretta, 60, crinale, 200, destra 4, lunga, stai all'interno, non tagliare, 250. 200, su dorsi, 200, stai all'interno, stai all'interno, sul salto, recinzione mestiale, 200, stai all'interno, sul salto, recinzione mestiale, 250. Sinistra 6, sul crinale, appallamento, destra 5, e destra 4, palo esterno, 60, destra 6, e sinistra 5, 40 in appallamento, in acqua, destra 6 sul crinale, destra 5, e sinistra 6, e destra 4 sul crinale, In sinistra 6, in appallamento, destra 5, e sinistra 6, 80, sinistra 6, 60, destra 4, stringe sul crinale, e sinistra 5, 60, sinistra 4, e tornante a destra, e sinistra 4, lunga, 200, altra guarda. Allenta per il commissario. Perfetto, gran risultato, avanti così.